Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 29 gennaio. Allora, oggi sui giornali l'unica cosa che conta per i giornali, in realtà riguarda un migliaio di persone, due, tre mila persone, non più di quelle, però i giornali sembra che vengano fatti per loro e non per i lettori, sono le candidature dei diversi partiti e le spaccature che ci sono e le rivendicazioni che ci sono. Guardate, la storia è abbastanza normale. Ogni volta che ci sono delle elezioni ci sono i delusi, gli sconfitti, i non candidati, coloro che si arrabbiano perché non hanno avuto il seggio che si meritavano o il posto in lista che avrebbero voluto. Ci sono tante considerazioni da fare. Oggi mi sembra che il partito che è più deluso e più spaccato è quello di Renzi. Renzi ha detto, secondo le cronache di tutti i giornali, che il Partito Democratico, che oggi ha numerosi seggi, grazie al premio di maggioranza che ebbe con la vecchia legge, insomma dovrebbe avere 200 seggi sicuri e sempre che poi gli italiani votano, votino come prevedono i sondaggi. Di questi 200 seggi sicuri, secondo oggi, i giornali attribuiscono a Renzi 160. Sostanzialmente ha preso tutto il partito e anche gli alleati del partito con qualche piccola frattaglia, tipo poi vedremo importante come quella dei radicali. I suoi di sono radicali. Per me i radicali stanno da un'altra parte, lo dico tutte le volte, ho il dente avvelenato con questa operazione che ha fatto la Bonino. Ma comunque sia, 160. E questo ha fatto sì che oggi contro i Renzi ci sia il mondo, quello degli esclusi. Oggi c'è un'intervista molto bella di Nicola Latorre, che ha fatto la Presidente della Commissione, mi sembra difesa, della Camera o del Senato, non mi ricordo. E Nicola Latorre, parlamentare di lungo corso, dice che continuerò a fare politica, non è che cambia nulla, però dice che Latorre è stato un gesto, quello di Renzi, veramente incredibile, perché non mi ha neanche telefonato, come lui tanti altri. In realtà poi il motivo per il quale Minniti, Ministro dell'Interno, sarebbe nero, anche se candidato e ci mancherebbe altro, è perché Latorre è uno dei pochi uomini suoi. Però Latorre certo non si mette a chiamare Minniti per fare il giro delle tre carte. Questo dice nella sua ricostruzione oggi. Si è sentito tradito, come si sarebbe tradito Emiliano, che fa parte della minoranza, Orlando, che avrebbe avuto pochi seggi, Martina, un altro ministro che non avrebbe avuto uomini a sufficienza nelle candidature di Renzi, Franceschini invece, secondo qualcuno, avrebbe avuto tutti i posti in lista che aveva chiesto per i suoi uomini. Latorre dice che in lista ci sono stati soltanto uomini fedeli a Renzi. Di fatto uno si può chiedere perché Latorre sia fuori e la giornalista Barra, che non ha mai fatto politica, oggi ha fatto un'intervista sul Corriere della Sera, sia dentro. Tra l'altro non è una di quelle giornaliste impegnate in politica, uno può dire, ma oggi ci ricorda le sue inchieste sulle mafie, che adesso francamente sono sicuro che lei abbia fatto, che io non mi ricordo, ma che sono ovviamente buonissime, ma io mi ricordo di un'altra signora che ha fatto inchieste sulle mafie, che a differenza di Saviano non ne ha mai fatto un libro, come possiamo dire, un'aura, una liturgia, la Capacchione, che non verrà ricandidata. Lei sì che qualche inchiestina sulla mafia l'ha fatta, e per questo motivo è scortata e rischia la vita molto più di chiunque altro che faccia il suo mestiere. Lei non è candidata e la Barra che ha fatto le inchieste sulle mafie lo è, però obiettivamente questo non toglie nulla alle scelte dei leader, che possono fare come esattamente gli pare, però Latorre un po' se la prende, anche se non fa nomi e cognomi. Secondo Repubblica nasce finalmente il PDR, cioè è morto il PD e nasce il partito di Renzi, che era poi il suo obiettivo. Lo so, non sono argomenti che vi interessano, però poi queste sono persone che dovremo votare e che comporranno il nuovo Parlamento. Ad esempio, io trovo una cosa incredibile, ve l'ho già detto in tutti i modi, vi faccio un esempio incredibile, cioè quello di Salvini. Matteo Salvini, candida la Buongiorno, che ha visto tutti i partiti e mi sembra che in un'intervista telefonica, un'intervista dell'altro giorno televisiva, ha una precisa domanda, ma lei l'ha votato alla Fornero? Lei ha detto non mi ricordo, non mi ricordo, cioè la candidata di punta di Salvini non si ricorda se ha votato la Fornero, posta che lei era una montiana, è stata una finiana, oltre aver scritto qualsiasi cosa di Salvini. Però, siccome la Buongiorno è donna dalla querela facile, cioè non bisogna criticarla, come si è visto sulla sua associazione, perché se qualcuno si permette di fare una domanda alla Buongiorno viene querelato, io sto zitto e mi chiedo, per quale motivo, in che direzione va il partito di Salvini, se non candida, per esempio, Sbai, che è la presidentessa delle donne italo-marocchine, e che ha fatto una battaglia di grandissimo coraggio, spiegando che cos'era il fondamentalismo islamico, da dentro, donna, che io mi ricordo perché invitavo a Matrix, non viene invitata, veniva invitata da tutti noi televisivi, perché ci raccontava il punto di vista della Lega, ma conoscendo i fatti, non inventandosi le ideologie, beh, questa signora non viene candidata, almeno oggi non sembra essere candidata, mentre la Buongiorno, che stava a Confini ed era contro la Lega e contro il suo disonrazzismo, oggi viene candidata, sono i misteri delle candidature dell'ultimo secondo. Beh, non è che la cosa sia di tenore inferiore nell'altro centrodestra, in quello di Berlusconi, che è dovuto andare a casa della Pascale, questo risulta dalle cronache per le telefonate che riceveva. E devo dire che quando io vedo che da Berlusconi non si candida il mio professore, Antonio Martino, ma non vuole lui candidarsi, e non si candidano tanti altri esponenti della prima ora, ma vedo candidati rotondi, per la sesta e la settima volta, Schifani, che poi l'aveva lasciato, e tutte queste giovani facce che avrebbero dovuto rappresentare la forza di Forza Italia nuova, io francamente ancora oggi non le vedo, e con il cavaliere assediato che se ne va a casa della Pascale, perché secondo una ricostruzione di qualche giornale di oggi, lì non riceverebbe neanche le telefonate attraverso il centralino, quindi nessuno gli può rompere le balle. Capisco bene che un signore di 80 anni non voglia essere rotto le balle dai questuanti dell'ultima ora, lo capisco perfettamente, ma se così fosse, chi è che sta facendo le liste oggi al posto di Berlusconi? Altra cosa che secondo me oggi valeva veramente la pena di leggere è Vittorio Maciocce, che ha fatto un fondo straordinario sul giornale, e sapete qual è la tesi del fondo di Maciocce? Che io condivido al 100%, è scusatemi, ma voi volete tutti voi politici i paracadute, perché se non venite eletti nel collegio nominale, poi state al proporzionale, il caso della Bosch, il caso di tutte le donne, insomma tutte queste robe che abbiamo raccontato, ma la società che paracadute ha nella società dei precari, nella società in cui il lavoro cambia, in cui le imprese falliscono, in cui il lavoro non è più a tempo indeterminato, in cui non ci sono sicurezze, in cui l'incertezza fa parte della nuova era del digitale, c'è solo un mondo che ci dice che noi dobbiamo essere flessibili, giustamente dico io, non critico questo, ma che per se stesso la flessibilità non l'accetta, e sapete qual è? Quello della politica. Io la trovo una cosa straordinaria, quindi al netto di tutte le polemiche che si fanno sulle nuove candidature, chi c'è dentro, chi c'è fuori, lo vedremo nelle prossime ore, la cosa incredibile è che questo mondo di protetti burosauri politici applicano a se stessi l'articolo 18, cioè devono rimanere lì per tutta la vita, non è gestibile. Perché pensavo ai radicali? Perché in un'intervista di oggi di Giacchetti, che aveva fatto un po' il fenomeno, non voglio il paracadute, poi dopo lo candidano a Sesto Fiorantino, dove vince Sicuro, è uno dei collegi più sicuri dell'ex PC e oggi del Partito Democratico, dice io volevo candidarmi nel mio collegio di Roma, ma sapete chi c'è? Il candidato Manci dei radicali, che ha detto che non si sarebbe spostato da quel collegio, e se si fosse spostato da quel collegio, avrebbe rotto l'alleanza con il PD. A me mi vengono da ridere, quello che dice Giacchetti, quello che dice Manci, queste piccole miserie elettorali, sono però anche il contenuto della politica. Non ci stupiamo troppo, perché questa è la politica, motivo per il quale a quando a qualcuno, come a Veneziani, e si parvelisce e ti chiedono a me, ma ti piacerebbe fare perché non ti candidi? Ma perché? Ma vi rendete conto? La libertà che ho con voi, la libertà di scrivere, che poi gli editori poi cambiano, mi licenziano, Renzi mi dice, c'ho tutto sommato da Rai, però mi ha reso la possibilità, in ogni caso, di avere una voce, di poter parlare, indipendentemente dalla scelta oscura di una segreteria, e dai lacchè di quella segreteria, e da questi paracaduti di merda che i politici attribuiscono a loro stessi, mentre li tolgono normalmente a tutta la società. La storia di cui avrei voluto parlare oggi soltanto è ovviamente la vittoria, il ventesima vittoria allo slam di Federer, non solo perché sono un appassionato tennista, ma perché tassista, ma perché è la storia di un grande successo personale, di una grande volontà personale, della capacità di giocare un tennis facile, che sembra che venga in maniera naturale, di non perdersi nei momenti della difficoltà, e di vincere anche a 36 anni, quando la gente ti considera ormai un vecchio decrepito. Insomma, Federer e il suo pianto di ieri davanti alla Coppa è una di quelle straordinarie storie dello sport che ce lo fanno amare, miliardario, con Rolex, con le pubblicità disuguale più di tutti gli altri, uno svizzero che forse voi potreste considerare così lontano da voi, ma in realtà così vicino, grazie allo sport, che ce l'ha reso più che, voglio dire, una specie di eroe, e ce l'ha reso uno di noi. Questa è la cosa incredibile. Il suo tennis, che è impossibile per noi da giocare, è un tennis favoloso, bellissimo, e che ci fa divertire. Oggi lo racconta, secondo me, Repubblica, è quella che racconta questa vicenda, sempre nelle pagine dello sport, e poi sempre con questa scansione. Cioè, lo sport è così, no? Le prime quattro cazzo di pagine sono per il calcio, qualsiasi cosa avvenga, il VAR, il non VAR, poi ci mettiamo, eh? E poi arriva il tennis, che in realtà in questo è una storia che non è tennistica, è una storia di umanità, è una storia di grandezza, non lo so, ma vabbè. Comunque, smetto di parlare di questo, e vado sul terzo capitolo di oggi, muovere il signor Ikea, dal nome impresentabile, i giornali ricordano la sua genialità nel costruire i mobili, la sua voglia di far soldi sin da quando era piccolo, e la sua partecipazione al partito filo-nazista svedese nelle sue età, per cui avrebbe anche chiesto scusa. Secondo me, la cosa che i giornali non sottolineano a sufficienza, ma io non conosco, quindi non so se anche questo, io cado in una trappola, della vulgata, del racconto banale che è stato fatto, francamente è un uomo molto ricco, però non conosco la sua storia, del signor Ikea, qualche volta sono stupito dal fatto che nei suoi scaffali ci sono i libri di Ayn Rand, e questo me lo renderebbe simpatico, ma la cosa che me lo rende davvero antipatico è che se sei miliardario e sei tirchio è una cosa che io proprio non posso sopportare. Io non trovo una cosa piacevole il fatto che un miliardario, l'ottavo uomo più ricco del mondo, come Cacchio si chiama il signor Ikea, avesse i vestiti di seconda mano, mi fa orrore, un miliardario che ha i vestiti di seconda mano mi fa schifo, che vivesse in un tugurio non mi piace, che avesse una vecchia auto non lo trovo giusto, se tu hai miliardi li spendi, te li godi, vivi su questa terra, cercando di consumare e distribuire la tua ricchezza, se i miliardari fossero tutti come lui, sarebbero da tassare, pensate un po' che cosa dico, al 95%, meglio lo Stato, no vabbè se non esageriamo, della tirchieria, però un miliardario ricco, paverone dei paveroni, è il, come possiamo dire, è la patologia di un sistema di mercato, sei ricco, è vero, facci quello che vuoi, tenteli anche in banca, non è che dico, ma l'esagerazione della tirchieria e dell'avarizia per un ricco, per me è una cosa orribile, una questione veramente personale, e sulla quale mi sarei intrattenuto nel raccontare il signor Ikea, low cost con gli altri, anche con se stesso, in questa ridicola ricerca della sobrietà nella vita, mentre i soldi se ce l'hai, spendili! Ciao!